E' stata sbloccata la gara da 50 milioni di euro per il servizio di igiena urbana nei comuni dell'Aro 11 con in testa Gallipoli e comprendente Taviano, Racale, Alliste e Melissano. E' uno degli esempi citati nella relazione dell'ANAC sulla gestione o mala gestione della raccolta di rifiuti in Puglia. Il tar di Lecce con sentenza ora supera l'impassa che si era creato dopo aver accolto nel gennaio scorso la sospensiva richiesta dal comune di Taviano, ritenendo che il decreto con cui il commissario dell'Aro aveva indetto la gara presentasse alcune criticità derivanti dal non aver recepito le osservazioni formulate dallo stesso comune di Taviano in merito alle modalità di svolgimento del servizio. Adesso l'ITER può ripartire per essere concluso prima dell'inizio della stagione estiva. Sono state accolte infatti le tesi difensive degli avvocati Pierluigi Portaluri e Giuseppe Mormandi per il comune di Gallipoli e dell'avvocato Angelo Vantaggiato per l'Aro a Lecce 11, costituiti sin giudizio. I comuni dell'Aro, ha commentato Portaluri, sono interessati da un flusso turistico di elevatissima consistenza, per cui sarebbe molto utile l'avvio tempestivo del nuovo servizio, caratterizzato già nel bando da un potenziamento delle prestazioni assicurate ai cittadini e ai turisti. Proprio le difficoltà incontrate dagli Aro hanno infatti determinato l'ANAC ad adottare una delibera con cui si invita la Regione Puglia a porre in essere iniziative idonee per rimuovere rapidamente le criticità e garantire che nel nuovo modello organizzativo e gestionale l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori comunali avvenga mediante gare effettivamente trasparenti e pro-concorrenziali.